I primi fiocchi di neve sono scesi anche nell'Aretino a quote più basse. Dopo la neve che nei giorni scorsi aveva fatto capolino in Pratomagno imbiancando magicamente la cima Aretina e la storica croce, adesso alcune precipitazioni sono state registrate a quote decisamente più basse, come Poti e Lignano. Addirittura qualche timido fiocco di neve è stato avvistato anche nel centro storico Aretino. Per quanto riguarda invece la provincia Neva-Pieve-Santo Stefano, Anghiari e Palazzo del Pero, imbiancata non solo la Valtiberina ma anche la Valdichiana, in particolare nel Cortonese. Al momento non è stato segnalato nessun disagio e nessun intervento da parte dei vigili del fuoco nella provincia di Arezzo. Già al lavoro inoltre sulle strade Aretine i mezzi Spargisale e Spalaneve.